Bene amici, buongiorno, andiamo avanti subito con il libro Il Transurfing in 78 giorni. Continuiamo con il capitolo La realtà in una veste sconosciuta. La realtà a sua volta è simile a un sogno inconscio a occhi aperti. L'uomo si trovi in balia delle circostanze e anche con lui la vita accade. L'uomo non ricorda le sue vite passate e non ha un punto d'appoggio che gli possa servire da base per elevarsi al livello successivo di consapevolezza. Ma per fortuna la situazione non è così disperata. Nel Transurfing esistono dei metodi indiretti grazie ai quali è comunque possibile costringere l'intenzione esterna a lavorare a favore degli uomini. L'uomo è in grado di formare la sua realtà, ma questo richiede rispetto di determinate regole. La ragione umana ordinaria tenta in vano di intervenire sull'immagine riflessa nello specchio, quando invece bisognerebbe cambiare l'immagine di partenza. E per immagine si intende la direzione e la natura dei pensieri dell'uomo. Al fine di trasformare il desiderato in realtà, il desiderio da solo non basta, e troppo poco. Occorre che l'immagine da una parte dello specchio coincida secondo determinati parametri con il settore corrispondente dello spazio delle varianti. Ma anche questo non è ancora tutto. Bisogna anche sapere come trattare lo specchio. Ed esso è un elemento non semplice e assai strano. Provate a immaginarvi questa situazione insolita. Siete in piedi, di fronte uno specchio e lì non vedete nulla, solo il vuoto. Dopo un po' di tempo comincia pian piano a delinearsi un'immagine, come succede quando si sviluppano le fotografie. A un certo punto iniziate a sorridere, ma lo specchio riporta ancora l'immagine riflessa della vostra espressione seria? Ebbene, allo stesso modo funziona lo specchio dello spazio delle varianti. Esso reagisce con lentezza e il tempo di ritardo è molto maggiore. Per questi cambiamenti non vengono percepiti subito. La realizzazione materiale è ferma, inerte, ma se vengono soddisfatte determinate condizioni, l'immagine riflessa finirà per formarsi e ciò significa che il sogno può diventare realtà. La vostra immagine, di fronte allo specchio, interviene come un oggetto fisico realmente esistente. La vostra immagine riflessa, non avendo alcuna sostanza materiale, risulta immaginaria, metafisica, ma col tempo, reale tanto quanto l'immagine di partenza. A differenza di quanto avviene con uno specchio ordinario, qui è il mondo materiale a intervenire come immagine riflessa, mentre a servire da immagine di partenza sono l'intenzione e i pensieri di Dio e di tutte le creature viventi, sue incarnazioni. Lo spazio delle varianti è una sorta di matrice, di cliché all'interno del quale ha luogo il processo di tagli e cuci e addirittura la sfilata di moda, cioè il movimento di tutta la materia. In questo spazio sono conservate tutte le informazioni sugli eventi del mondo materiale e sui modi della loro manifestazione. Il numero delle diverse possibilità potenziali è infinito. Una variante è un settore dello spazio che contiene scenari e paesaggi precisi, cioè la traiettoria e la forma di movimento della materia. In altri termini, un settore definisce cosa deve avvenire in un determinato caso e come ciò apparirà. ne consegue che lo specchio divide il mondo in due metà, l'una reale e l'altra immaginaria. Tutto ciò che ha acquisito una forma materiale si trova nella metà reale e si sviluppa in conformità alle leggi fisiche della scienza. La scienza, come pure la visione abituale del mondo, ha relazione solo con ciò che avviene nella realtà, dove per realtà si intende tutto ciò che si presta a essere osservato e a subire un'azione diretta. Se si ignora il lato metafisico della realtà e ci si limita a prendere in considerazione solo il mondo materiale, allora l'attività di tutte le creature viventi, uomo compreso, si riduce a un movimento primitivo nei limiti dell'intenzione interna. Utilizzando l'intenzione interna il fine viene raggiunto mediante un'azione diretta sul mondo circostanze. E ciò significa che per ottenere qualcosa basta intraprendere determinate mosse, spingere, farsi strada gomitate, aprirsi un barco. La realtà materiale è concretamente tangibile, reagisce istantaneamente all'azione diretta e questo crea l'illusione che solo in questo modo sia possibile ottenere dei risultati. Tuttavia, nell'ambito del mondo materiale, la gamma dei fini realmente raggiungibili è ristretta. Tutti vogliono ottenere tutto, ma per tutti non basta, si può contare solo su ciò che è disponibile. Alla fine molto dipende dai mezzi, che in genere non sono sufficienti e dalle possibilità, che spesso sono assai limitate. In questo mondo tutto in assoluto è permeato dallo spirito di competizione. In troppi vogliono raggiungere le stesse cose e nei limiti dell'intenzione interna. Ciò che è a disposizione non basta per tutti. E poi, da dove verrebbero le condizioni e le circostanze necessarie per il raggiungimento del fine? Possono venire solo dallo spazio delle varianti. D'altra parte dello specchio, invece, c'è abbondanza di tutto, non solo, ma non vi è alcuna concorrenza. La merce non è immediatamente disponibile, ma tutta la meraviglia sta nel fatto che si può scegliere qualsiasi oggetto, come da un catalogo, e fare l'ordine. Primo o poi l'ordine verrà evaso e pagarlo non servirà. Basterà solo soddisfare determinate condizioni non troppo onerose, ed è tutto. Non è forse una favola? Niente affatto, è una cosa più che reale. L'energia dei pensieri non si dissolve senza lasciar traccia. Essa è in grado di materializzare il settore dello spazio delle varianti, corrispondente per parametri all'emissione mentale, ai pensieri. Che tutto quanto avviene nel nostro mondo sia risultato dell'interazione di oggetti materiali è solo un'apparenza. Un ruolo non meno importante è svolto dai processi che si verificano sul piano sottile, quando le varianti che esistono virtualmente trovano incarnazione nella realtà. Le relazioni di causa-effetto dei processi che avvengono nel mondo sottile non sono sempre visibili. Pur tuttavia, esse finiscono per influire e formare una buona metà di tutta la realtà. La materializzazione dei settori dello spazio delle varianti, di norma, avviene indipendentemente dalla volontà degli esseri umani, perché l'uomo non utilizza l'energia dei suoi pensieri in modo mirato e tantomeno lo fanno le creature meno sviluppate dell'uomo. Nel corso della sua vita, l'uomo, ancorato alle sue abitudini, ai realia del suo quotidiano, si trova a girovagare tra gli scaffali vuoti dei negozi, cercando di allungare la mano e prendere la merce che gli interessa, ma scopre che essa porta già il cartellino venduto. A disposizione sono rimasti solo prodotti di seconda scelta, di qualità scadente, e anche per questi bisogna pagare un prezzo alto. E invece di sfogliare semplicemente il catalogo, quello della merce dall'altra parte dello specchio, scegliere la merce e fare l'ordine, l'uomo comincia a girare in modo sconclusionato, a cercare il lungo e il largo, a occupare un posto in una fila chilometrica di persone, a farsi varco tra la folla e a litigare con venditori acquirenti. Il risultato è che la merce desiderata comunque non gli arriva in mano e i problemi per contro diventano sempre di più. Bisogna capire che questa squallida situazione nasce innanzitutto nella coscienza dell'uomo e da lì, materializzandosi gradualmente, passa alla realtà. Bene amici, per oggi ci fermiamo qui, ci vediamo la prossima volta. Ciao!